Benvenuti a tutti. Siamo qui oggi con due grandi ospiti e grandi amici del Festival della Comunicazione. Abbiamo Antonella Viola, professoressa ordinaria di patologia generale all'Università di Padua, e Federico Taddia, grande giornalista, divulgatore scientifico e grande autore. Quest'oggi ci parleranno della via dell'equilibrio. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, ciao Antonella. Buongiorno, ciao Federico. Due domande preliminari subito in apertura. Sono le 12.30, ho fame? Morirò prima o morirò dopo? Io ho caldo. Grazie per essere qui con questo caldo, davvero. Un applauso a voi perché è dura. La via dell'equilibrio è il libro di cui parleremo oggi, però volevo capirti se il momento Lilly Gruber, quello con la domanda, ma allora il Covid sta tornando, lo teniamo per la fine? Sì, lo teniamo per la fine, dai. Va bene, allora cominciamo da qua. Quando sarò vecchia, mi vestirò di viola, con un capello rosso che non si abbina e che non mi sta bene, e spenderò la mia pensione in brandy e in guanti estivi, e in sandali di raso e dirò che non abbiamo i soldi per il burro. Quando sarò stanca, mi siederò sul marciapiede, inghiottirò gli assaggi nei negozi e suonerò gli allarmi, farò tintinnare le inferiate con il mio bastone e compenserò la sobrietà della mia gioventù. Uscirò sotto la pioggia in pantofole e coglierò i fiori nei giardini altrui e imparerò a sputare. Si possono portare camicie orribili e ingrassare, si può mangiare un chilo di salsicce in un colpo, o solo pane e sottaceti per una settimana e si possono accumulare penne e matite, e sottobicchieri e chance frusali e nelle scatole. Ma ora dobbiamo avere vestiti che ci tengono asciutti e pagare l'affitto e non imprecare per strada e dare il buon esempio ai bambini. Dobbiamo invitare gli amici a cena, dobbiamo leggere i giornali, ma forse dovrei cominciare a fare un po' di pratica adesso, così che la gente che mi conosce non sia troppo scioccata e sorpresa quando improvvisamente sarò vecchia e comincerò a vestirmi di viola. Possiamo finire qua l'incontro, no? È tutto qua il libro? Abbastanza, sì, è una poesia che chiude il libro. Il libro inizia con una poesia, tra l'altro che mi è stata regalata da Mariangela Gualtieri, e finisce con quest'altra poesia che invece ho ripescato in internet, non la conoscevo neanch'io, l'ho ripescata in internet e nella rete perché un giorno ad Amsterdam stavo passeggiando e appunto ho visto questo gruppo di signore tutte vestite di viola e con questi cappelli rossi. Sul momento ho detto, ah che strano, andranno a una festa, ci sarà qualche ritrovo così particolare. Però quest'immagine mi è rimasta dentro e non so per quale motivo, sapete quelle cose un po' che non riusciamo a spiegare? Quando ho scritto questo libro sono andata a cercare donne col cappello rosso e ho visto che esiste proprio un'associazione di donne, donne appunto non più giovanissime, che si ritrovano appunto sulla base di questa poesia, quindi hanno scelto l'abbigliamento sulla base di questa poesia, e sono donne che celebrano questo momento della loro vita, cioè quella fase della vita in cui probabilmente si riscopre la libertà. credo che adesso il libro parla poi di scienza, di alimentazione, di sport, però alla fine il messaggio finale è proprio questo, cioè che noi vogliamo arrivare alla fine della nostra vita, a questa ultima fase della nostra vita, abbastanza in forma, abbastanza in salute, per potercela godere fino in fondo, perché è veramente, se siamo in salute, un momento bellissimo, un momento di totale libertà, appunto come poi scrivo nel libro, in cui non dobbiamo più dimostrare niente a nessuno, non dobbiamo raggiungere obiettivi, non dobbiamo piacere a nessuno, che ci importa? Tutto quello che dovevamo essere, che dovevamo fare, lo abbiamo già fatto, e diventa il momento dedicato a noi stessi. Ho una domanda tecnica. Sì. Cioè le donne anziane si ritrovano per festeggiare, perché gli uomini anziani sono già morti? Questa è una bellissima domanda, so benissimo perché la stai facendo, perché effettivamente, sì, effettivamente le donne sono più longeve degli uomini. Le donne sono più longeve degli uomini, in Italia la differenza è di 4 anni, nel senso che in Italia l'aspettativa di vita media è di 84 anni, però è 82 per gli uomini e 86 per le donne. Le donne sono più longeve, però, diciamo prima le cose belle, sono più longeve, le donne sono più forti biologicamente degli uomini, nel senso che dal primo, dal concepimento, il sesso femminile è più resistente, è più forte di quello maschile. probabilmente per un sistema immunitario che le protegge, anche perché di solito le donne hanno due cromosomi X, mentre gli uomini di solito hanno un cromosoma X soltanto, e quindi questo potrebbe proteggere le cellule dal danno al DNA. Per una serie di ragioni, alcune delle quali ancora non abbiamo compreso, le donne sono più longeve degli uomini e più forti degli uomini, però le donne, c'è anche questo da dire, vivono gli ultimi anni della loro vita in uno stato di salute peggiore rispetto a quello degli uomini. E questo è un tema adesso molto serio, molto importante, perché ci fa capire quanto, se sono più forti, dal concepimento, più longeve, così perché vivono in uno stato di salute peggiore rispetto agli uomini? Perché la medicina è ancora una medicina che discrimina il sesso femminile, ne abbiamo parlato qui l'anno scorso per chi c'era del problema della medicina di genere, beh, questo lo ritroviamo anche quest'anno parlando di longevità, perché vediamo che le nostre anziane hanno più malanni, hanno appunto uno stato di salute peggiore, probabilmente perché ancora la medicina non è adatta al corpo femminile, e anche alle malattie, dalla prevenzione, alla cura delle malattie declinate al femminile. Ti chiederò poi perché invecchiamo, però questo insomma ci interessa meno. Spieghi invece quando invecchiamo, cioè esiste un momento da cui iniziamo a invecchiare? C'è un momento in cui dici ok, amico o amica, stai invecchiando, lo vedo dal cappello bianco? No. La ruga? Allora, il concetto di invecchiamento è molto sfumato, perché? Perché prima di tutto quando noi parliamo di invecchiamento c'è un aspetto biologico, un aspetto culturale che si fondono. Oggi un ragazzo a 40 anni è un ragazzo, insomma 50 anni fa, 100 anni fa, altro che ragazzo, non era per niente un ragazzo, quindi è cambiato anche dal punto di vista culturale quello che noi consideriamo la mezza età o addirittura l'invecchiamento. Uno studio è andato a chiedere nel mondo ai vari popoli qual è l'età a cui si invecchia, appunto la stessa domanda che mi hai fatto tu e si è visto che ogni popolo ha una risposta completamente diversa e noi italiani siamo tra quelli che dicono che si invecchia più tardi, cioè non se ne parla proprio prima dei 70 anni in Italia a considerare una persona invecchiata. L'altra cosa interessante è che nello stesso studio si è visto che il limite di che cos'è la vecchiaia dipende da quanti anni ha la persona intervistata, cioè se chiedete a 20 anni quando è che si invecchia, il ventenne dirà a 40 anni, se lo chiedete a un quarantenne dirà a 60 anni, se lo chiedete a un sessantenne dirà a 80. Quindi man mano che noi andiamo avanti nella nostra vita spostiamo questo limite più avanti. Questo però è l'aspetto culturale. Da un punto di vista biologico che cosa possiamo dire? Allora, per sapere quando si invecchia dobbiamo avere un modo per misurare l'età biologica del nostro corpo. Perché l'età anagrafica ovviamente ci dice molto poco. Ovviamente tra 80 anni e 10 anni c'è una grande differenza e questa la vediamo tutti. Però quanti di noi conoscono 80 anni che sono in splendida forma scalano le montagne lavorano, sono attivi e altri che invece purtroppo sono allettati non sono autonomi e autosufficienti. L'età biologica non ci dice tutto. Io per esempio appunto racconto sempre che sono molto amica del professore e stimo moltissimo il professor Silvio Garattini lo conoscete senz'altro tutti. Il professor Garattini ha 94 anni e lui lavora ancora ogni giorno guida mi ha detto che ogni giorno fa almeno 6 chilometri però mi ha detto Antonella però a passo veloce perché bisogna fare fatica altrimenti non vale e veramente ricorda tutto ha una memoria che è proprio incredibile. Ecco lo faccio il paragone con mio papà che purtroppo invece ha meno anni di lui ma è a letto non è autosufficiente e c'è quindi una differenza abissale. Ecco che diventa necessario uno strumento per capire qual è l'età biologica cioè quanti anni abbiamo dal punto di vista biologico. Questo diventa essenziale anche perché l'ambito della longevità è un ambito che interessa tantissimo alle industrie farmaceutiche per esempio per cui immaginate che io faccio ricerca in laboratorio come sapete e lavoro anche nell'ambito della longevità immaginate che io domani vada non so da Novartis da Roche a dire ho trovato la pillola che ci fa ringiovanire datemi i soldi e vendete questa pillola secondo voi lo farebbero? No direbbero dimostrami che effettivamente fa ringiovanire allora come facciamo a dimostrare che fa ringiovanire? Ecco che serve trovare un modo per misurare l'età delle nostre cellule e gli scienziati lo hanno trovato un metodo che è abbastanza buono con una grandissima approssimazione ci dice cioè con una ottima approssimazione ci dice l'età del nostro corpo da un punto di vista biologico ed è quello che viene chiamato orologio epigenetico che va a vedere in che modo sta il nostro DNA ed è una cosa che tutti possono fare? Sì però non uscite di qui pensando voglio fare il test per vedere quanti anni ho da un punto di vista biologico perché è un qualcosa che viene usato oggi ancora a livello di sperimentazione per esempio appunto negli studi clinici per esempio usando questo orologio epigenetico che va a vedere come sta il nostro DNA si è visto che chi fuma ha un'età biologica maggiore rispetto a chi non fuma cioè fumare siccome causa danno al DNA fa correre di più le lancette dell'orologio epigenetico quindi si invecchia più velocemente però hanno visto anche un'altra cosa agli scienziati cioè che se una persona smette di fumare beh pian piano l'orologio comincia ad andare indietro e quindi il tempo si riesce a recuperare quindi non è mai troppo tardi quindi sei per il fumo intermittente no per il fumo assente completamente e l'altra cosa che hanno visto visto che hai richiamato con questa battuta l'alimentazione è che la dieta mediterranea è quella che fa correre più lentamente le lancette dell'orologio epigenetico quindi noi oggi possiamo in qualche modo capire vedere quanti anni ha il nostro corpo e come lo facciamo andando a vedere in che condizioni è il nostro DNA e questo ci porta alla domanda perché invecchiamo ovviamente certo nel senso che perché il danno al DNA ci dovrebbe dire quanti anni abbiamo perché noi invecchiamo proprio per questo motivo noi invecchiamo perché invecchiano le nostre cellule prima di tutto questo dobbiamo partire da questo noi invecchiamo perché invecchiano le nostre cellule allora cos'è che fa invecchiare le nostre cellule sono molto felice che oggi ci sia il professor Ferraris qui con noi perché io quando racconto questa cosa lo cito e oggi avrò il piacere di citarlo in sua presenza allora il termine resilienza è un termine che a me non piace moltissimo è un termine abusato e soprattutto è usato in maniera impropria perché viene utilizzato come una proprietà della nostra mente della nostra anima della nostra psiche di superare i traumi di resistere alle avversità si dice ha passato un momento difficile ma ora si è ripresa è molto resiliente ha dimostrato resilienza cioè viene usato impropriamente perché? perché resilienza è una proprietà dei materiali di tornare allo stato di partenza dopo aver subito una trasformazione ecco il nostro cervello è tutt'altro che resiliente è l'opposto il nostro è un cervello plastico cioè cosa vuol dire? cambia continuamente è proprio l'opposto della resilienza la resilienza vuol dire tornare come prima invece il cervello plastico impara dall'esperienza impara e cambia e si evolve il professor Ferrari si aveva scritto in un suo libro recente se io fossi resiliente arriva uno mi dà una sberla e poi io resto lì e prendo anche la seconda la terza e la quarta perché non ho imparato niente non ho capito che da quella persona io riceverò le sberle ma è la stessa cosa che succede al bambino quando il bambino per la prima volta fa l'esperienza del fuoco che scotta che fa male da quel momento ha imparato e quindi non tornerà più vicino al fuoco se fosse resiliente continuerebbe a scottarsi quindi non mi piace questa parola quando usata così ma quando invece la usiamo riferita al nostro corpo alle nostre cellule e alla capacità delle cellule di riparare i danni che il tempo causa allora sì ha un suo perché perché effettivamente il vivere danneggia il nostro DNA poi magari andremo su quali sono le cause di danno il danno che arriva al DNA viene continuamente riparato all'interno delle nostre cellule c'è tutto un macchinario che serve a riparare questo danno noi invecchiamo quando il danno supera le nostre capacità di ripararlo quando cioè a furia di riparare 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 si crea un gran pastrocchio sul DNA delle nostre cellule appunto si viene chiamato disordine epigenetico per cui le cellule non fanno più quello che dovrebbero fare e diventano senescenti nel libro c'è un capitolo ci sono le varie teorie anche sul perché le cellule invecchiano perché poi il bello della scienza è anche quello che non ci sono proprio certezze assolute non abbiamo tantissimo tempo quindi andrei molto nel pratico anche perché insomma ultimamente in televisione ti intervistano spesso come dietologa giusto? come dietologa hanno fatto un po' di confusione ma per capire davvero come possiamo aiutarci prima proprio ve lo chiedi una cosa perché fino a fine secolo fino a fine dell'ottocento la vita media cos'era? era intorno ai 35 38 anni adesso sono passati un secolo ed era più o meno raddoppiata in Italia è 82 questo però è successo questo devo spiegare sono due cose che sono successe la prima è che la vita media era così bassa perché? perché c'era una mortalità infantile altissima la vita media è una media quindi tiene insieme quelli che muoiono a 120 anni anche quelli che muoiono alla nascita quindi il motivo per cui era così bassa la vita media fino al novecento è perché la mortalità infantile era così così alta nel novecento ci sono le grandi scoperte scientifiche quindi arrivano gli antibiotici i vaccini l'insulina sappiamo fare le trasfusioni di sangue arriva l'acqua potabile le fognature insomma tutto questo boom tecnologico che ci permette di abbattere la mortalità infantile e quindi portare la vita media a 60 65 negli ultimi anni però sta accadendo accanto a questo un'altra cosa e cioè che effettivamente aumentano sempre di più le persone che raggiungono che si avvicinano a quel tetto di vita massima che è diverso dalla vita media a quel tetto massimo che è considerato intorno ai 120 130 anni per gli esseri umani ebbene sempre più persone si stanno avvicinando ai 100 ormai sono tanti centenari quasi tutte donne diciamolo ma anche aumentano le persone che superano i 100 anni e che si avvicinano a questa soglia quindi gli scienziati pensano che nei prossimi anni non si agirà forse più tanto purtroppo perché ancora in alcuni paesi la mortalità infantile è alta su quello ma proprio su un aspetto di longevità cioè di avvicinare di portare tutti al tetto massimo quindi cerchiamo di capire come campare di più ma soprattutto come gli ultimi anni della vita quelli dell'anzianità che sono anche anni piacevoli non caricati da malattie non caricati da disagio e insomma nel libro dai tanti consigli quello forse centrale è proprio legato all'alimentazione mi ha molto colpito cioè lo studio su tutti gli animali cioè agli animali meno dai da mangiare più vivo sì purtroppo purtroppo questa è l'unica cosa che veramente funziona come vi dicevo prima studi sulla longevità si fanno in tutto il mondo ci sono grandissimi investimenti in questo campo perché è un qualcosa che ci interessa tutti e quindi le aziende farmaceutiche sono molto interessate a questo settore ma l'unica cosa ad oggi che funziona dal vermicello fino agli esseri umani è il digiuno cioè la restrizione calorica più che il digiuno la restrizione calorica spinta cioè mangiare molto poco allunga la vita ora il punto è come si fa ad applicare nelle nostre vite uno schema di restrizione calorica così forte perché la restrizione calorica che funziona è una restrizione prima di tutto che va fatto con un medico che ci segue non si può fare da soli assolutamente cioè per esempio il professor Fontana che segue i suoi pazienti e fa degli studi in questo ambito e lui applica questa restrizione calorica cioè togli a una persona che non so si dice tu dovresti mangiare in media 2000 calorie e lui gli toglie il 40% ovviamente non è facile è fattibile ma certamente non è facile e soprattutto è difficile con il nostro con la grande disponibilità di cibo che abbiamo noi con la vita sociale col fatto che mangiare non è solamente nutrirsi ma ricordiamoci che è prima di tutto nutrirsi e poi è il resto però è anche il resto è anche appunto convivialità è anche piacere e così via ecco perché gli scienziati hanno cominciato a dire ma c'è un modo per aggirare questa cosa della fame a vita perché alla fine vuol dire fare la fame infatti perché poi torna il discorso anche della qualità della vita torna il discorso della qualità diventi fassino cioè una cosa anche se appunto se tu vedi questo mio collega Luigi Fontana lui fa sport così ride 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 sì sì ride anche sembra felice l'avete visto chi ha visto Petrolio avrà visto l'intervista a lui l'hanno trasmessa l'altro ieri sera beh hanno cercato di dire prima di tutto perché funziona la restrizione calorica funziona principalmente perché qui in questa piazza ne abbiamo già parlato perché riesce quando noi mangiamo molto poco all'interno delle nostre cellule che hanno bisogno di energia sempre le nostre cellule non possono resistere senza energia hanno bisogno di energia per vivere non è appunto come il telefonino che lo possiamo staccare no la nostra cellula se si trova senza energia muore perché immediatamente perde il confine tra il dentro e il fuori si scioglie in qualche modo si apre e quindi ha bisogno di energia di continuo allora quando la cellula non ha energia perché noi non stiamo mangiando attiva un processo che viene chiamato autofagia cioè cosa vuol dire digerisce gli organelli le proteine le cose sacrificabili all'interno della cellula stessa quindi noi tutti abbiamo nelle nostre cellule un sistema che ci garantisce di sopravvivere senza mangiare a lungo noi possiamo stare a lungo senza morire senza mangiare perché? perché nelle nostre cellule parte questo meccanismo di autodigestione in cui vengono eliminate tutte quelle cose che si possono e di cui possiamo fare a meno la cosa interessante è che quando si attiva l'autofagia le prime cose che vengono eliminate sono quelle danneggiate che non funzionano tanto bene quindi è un po' come fare le pulizie di Pasqua quando noi svuotiamo gli armadi e buttiamo via tutto quello che abbiamo accumulato e non ci serve ecco fare questo per la cellula è essenziale per mantenersi in salute perché a furia di accumularsi le cose che sono rotte gli organelli un po' scassati le proteine malfunzionanti danneggiano la cellula causano appunto causano quel danno al DNA e causano infiammazione a tutto il nostro corpo i mitocondri soprattutto che sono le centrali elettriche delle nostre cellule quelli che producono energia col tempo si usurano e si danneggiano e i mitocondri danneggiati causano l'infiammazione di tutto il nostro corpo quando noi digiuniamo l'autofagia rimuove i mitocondri danneggiati e quindi tiene bassa l'infiammazione e tiene basso il danno all'interno delle cellule quindi questo è un meccanismo importantissimo intorno al quale ruota quest'idea del digiuno ma digiunare quanto? eh no appunto all'inizio si parlava solo di restrizione calorica cioè si diceva bisogna mangiare molto poco in modo da attivare continuamente questo bisogno di energia all'interno delle cellule e anche per abbassare in qualche modo la produzione di specie reattive i radicali liberi sappiamo tutti che sono prodotti dal metabolismo quando noi mangiamo il metabolismo produce radicali liberi e più ne produciamo più danneggiamo il nostro DNA poi ci sono altre ragioni però dovrei andare avanti un'ora e mezza solo per parlare di questo arriviamo al punto dove vuoi arrivare tu cioè al digiuno intermittente allora gli scienziati gli sono detti ma possiamo avere gli stessi benefici che si hanno con la restrizione calorica tentando invece di mangiare molto poco sempre di mangiare solo in una data finestra della giornata cioè restringere il numero di ore in cui mangiamo in modo da dare il tempo appunto al nostro corpo di avere fame e attivare l'autofagia e hanno cominciato a fare gli esperimenti in questo ambito e si è visto che effettivamente questa cosa porta dei benefici ancora non sappiamo se ci farà vivere di più o di meno perché purtroppo gli esperimenti negli esseri umani sono molto complessi però sappiamo che per esempio aiuta il metabolismo aiuta a perdere peso aiuta a regolarizzare non so il colesterolo la pressione la glicemia e così via quindi sembrerebbe uno strumento utile quanto dobbiamo stringere io più che dirvi quanto dobbiamo stringere vorrei dirvi che la cosa più importante è in quale ore del giorno dobbiamo mangiare e in quale ore dobbiamo digiunare il digiuno intermittente noi lo chiamiamo così in maniera sbagliata il nome giusto è tre cioè time restricted eating cioè mangiare per un tempo ristretto ma il tre questo digiuno intermittente funziona solo e esclusivamente se noi mangiamo quando c'è il sole e digiuniamo quando il sole non c'è tante persone mi scrivono e dicono professoressa faccio il digiuno intermittente non faccio colazione non pranzo arrivo a casa alle nove e faccio la cena e io dico bravo ma stai facendo la cosa peggiore che tu possa fare perché stai sballando completamente il ritmo circadiano del tuo del tuo corpo del tuo metabolismo noi il nostro corpo funziona seguendo dei ritmi circadiani circadiani vuol dire di circa 24 ore è una storia bellissima perché dovete pensare che ogni essere vivente sulla terra ha questo orologio interno questo ritmo circadiano che dipende dal sole l'unica cosa stabile da sempre da quando la vita è comparsa sulla terra è stata la presenza di questa stella del sole è il fatto che si alternano ore di buio e ore di luce quando non avevamo l'energia elettrica la luce artificiale quando il sole calava era buio davvero ecco la vita si è sviluppata in queste condizioni luce e buio noi siamo animali diurni quindi il nostro metabolismo sente la presenza del sole noi abbiamo il cervello c'è una zona del cervello dell'ipotalamo che è collegato alla retina dei nostri occhi e quindi il nostro cervello sa in ogni momento che ora del giorno è se c'è luce o non c'è per esempio quando il sole cala arriva il buio il segnale che arriva dalla retina dei nostri occhi al cervello comincia a far produrre la melatonina e quindi noi ci cominciamo a sentire rilassati ad andare verso il sonno e il sole o la sua assenza che regola tutti i ritmi del nostro corpo sistema immunitario metabolismo dolore tutto dipende da questo ritmo non solo in noi in tutti gli organismi viventi ebbene noi siccome siamo animali diurni siamo programmati per sfruttare al meglio i nutrienti quando c'è il sole nella fase in cui siamo attivi noi siamo animali diurni attivi durante il giorno e dobbiamo dormire durante la notte ecco che la prima cosa che noi dovremmo fare quando facciamo il digiuno intermittente e dire almeno 12 ore al giorno di notte però tipo dalle 8 di sera alle 8 del mattino o dalle 7 di sera alle 7 del mattino almeno 12 ore non dobbiamo mangiare dobbiamo tenere a riposo il nostro metabolismo perché durante quelle ore se noi mangiamo prima di tutto il metabolismo non è non è non sa sfruttare al meglio questi nutrienti chi mangia molto tardi la sera ha un maggiore rischio di obesità un maggiore rischio di malattie cardiovascolari un maggiore rischio di cancro di tutta una serie di patologie dobbiamo quindi cercare di mangiare di giorno di non mangiare niente durante la notte non solo per attivare l'autofagia quindi fare le grandi pulizie ma anche proprio per riallineare il nostro metabolismo con il ritmo circadiano quindi il mio suggerimento se dobbiamo essere pratici è almeno 12 ore al giorno evitiamo di mangiare però vi ripeto devono essere le ore notturne non mi fate il digiuno dalle 8 del mattino alle 8 di sera perché è la cosa peggiore che si possa fare poi se qualcuno vuole spingersi e andare oltre sotto la guida di un medico può tranquillamente portare queste 12 ore a 16 ore che sono quelle che di solito vengono utilizzate negli schemi di digiuno intermittente e questo serve appunto ad attivare bene l'autofagia e appunto a ripulire il nostro corpo questa diciamo che però è una delle regole l'altra giusto sempre per creare clima è basta vino allora ricordi ecco anche qui stasera vedrete che probabilmente come ieri sera ieri sera noi abbiamo cenato abbiamo finito di cenare verso le 9 quindi io a casa di solito mangio alle 7 massimo cioè per le 7 di sera cerco di aver finito di cenare proprio per per riuscire a fare almeno quelle 12 ore stasera non potrò farlo ieri sera non l'ho potuto fare dobbiamo distinguere la regola dall'eccezione il libro si chiama la via dell'equilibrio non a caso perché noi dobbiamo avere un po' di saggezza e di equilibrio quindi distinguere quello che è la nostra quotidianità dal momento di piacere dal momento di vacanza noi ci conosciamo da tanti anni più di 10 il primo giorno che ci siamo conosciuti mi hai invitato a cena e hai ordinato tu il vino esatto io non sono astemia no no ma io non sono astemia semplicemente io non bevo nella mia quotidianità non è una non c'è sulla mia tavola il vino se vado fuori a cena con un amico o perché o con la mia famiglia voglio fare magari un bicchiere me lo bevo volentieri però è un'eccezione non è la mia regola ecco poi ci sono se invece uno è proprio astemio ben venga cioè non è che è un problema essere astemi quello che dobbiamo capire però è che invece il contrario non va bene cioè se come eccezione è tollerabile come invece regola di avere il consumo quotidiano di alcol no per quello fa male l'alcol ormai mi avete sentito dirlo in tutte le salse è un cancerogeno è un tutti i tipi di alcol non è il vino la birra è l'alcol ovviamente più alcol c'è più è pericoloso quindi i superalcolici sono peggio rispetto al vino che ha meno alcol questo è normale così come è ovvio che più si beve più si rischia anche questo è normale è molto meglio bere un bicchiere che bersene dieci questo non ci sono dubbi però anche quel bicchiere fa bene o fa male non fa bene non possiamo dire che fa bene perché è un cancerogeno è legato allo sviluppo di tutta una serie di tumori tra l'altro nelle donne è legato fortemente allo sviluppo del cancro al seno quindi le donne rischiano di più rispetto agli uomini quando bevono che cosa vuol dire però questo rischio proviamo a dare dei numeri cioè così ci capiamo su mille persone che bevono due dosi alcoliche al giorno quindi qualunque roma ma due dosi alcoliche su mille dieci uomini e quattordici donne svilupperanno un tumore che dipende solo da quello cioè che non avrebbero sviluppato se fossero stati astemi ora il punto è io non so se sarò tra quei dieci quattordici a cui purtroppo verrà il tumore o se sarò tra gli altri non lo posso sapere questo è un grosso limite oggi della medicina la medicina oggi non può dirci chi è a rischio e chi non lo è ci può dire per esempio appunto siccome sono dieci uomini e quattordici donne che le donne rischiano di più questo lo sappiamo ma non può dirci a livello individuale chi rischia ecco che allora il messaggio che noi dobbiamo dare in generale deve essere di prudenza deve essere fate attenzione se vi piace continuate a consumarlo ma limitatelo alle eccezioni al momento di piacere e non l'unica bevanda che noi dobbiamo bere regolarmente ogni giorno è l'acqua basta il resto deve essere un extra mi sono segnato altre 3-4 cose da chiederti al volo se è bene farle o non farle in vista della nostra longevità lo sport lo sport è essenziale se io dovessi dare tre regole per vivere a lungo in salute la prima e lì è la peggiore per te la prima è dormire 7-8 ore a notte anche 4 più 4 con una pausa 4 più 4 il sonno intermittente non funziona bisogna dormire di seguito quindi la prima regola è dormire 7-8 ore a notte il sonno è fondamentale perché durante il sonno si riparano i danni che si sono subiti nelle nostre cellule durante la notte quindi è una fase essenziale per riparare i danni per consolidare la memoria per rinnovare le cellule del nostro corpo la seconda regola è mangiare meno alcuni devono mangiare meno non tutti ci sono persone che mangiano il giusto magari mangiare meglio ecco fare un po' più attenzione a quando si mangia appunto perdere l'abitudine dello snack davanti alla televisione la sera ecco così e cercare di puntare di più su quella vera dieta mediterranea che era quella dieta ricca di cereali integrali legumi e così via è povera di grassi animali e di zuccheri la terza regola fondamentale che però non è terza in ordine di importanza perché sono tutte e tre importanti è muoversi di più muoversi è importante a tutte le età è fondamentale per prevenire i malanni della vecchiaia invecchiando tutti andiamo incontro a una perdita di forza i nostri muscoli si indeboliscono una cosa che succede a tutti qualsiasi cosa facciamo tra i vent'anni la differenza di forza muscolare tra quando abbiamo vent'anni e quando ne abbiamo sessanta c'è non c'è niente da fare però noi possiamo limitare i danni se noi ci alleniamo regolarmente se teniamo i muscoli allenati noi possiamo fare in modo di non arrivare a non poterci alzare da una sedia da soli a non riuscire a fare le scale ad essere traballanti nei nostri movimenti e lo dobbiamo però fare iniziando subito iniziando già insomma intorno ai 40 anni di età ai 50 anni di età a dedicare del tempo alla salute dei nostri muscoli il muscolo il muscolo scheletrico è il tessuto più abbondante che abbiamo nel corpo e quindi dal suo benessere dipende la salute di tutto il resto del corpo cosa vuol dire? nel libro do i dettagli di cosa bisogna fare bisogna fare combinare l'esercizio aerobico con l'esercizio di forza cioè 150 minuti di camminata veloce a settimana non è tanto lo possiamo fare tutti perché a settimana quindi possiamo spalmarlo nei giorni in più però quello che non si fa sono almeno un paio di sessioni a settimana di forza cioè cosa vuol dire? quegli esercizi in cui stimoliamo il corpo a diventare forti il muscolo diventare forte quindi solleviamo il nostro stesso peso oppure solleviamo i pesi e questo di solito andrebbe fatto in palestra appunto con un istruttore mi rossinato una quarta cosa che però forse hai già risposto perché dobbiamo dormire in più abbiamo fame fare sesso? il sesso va bene a tutte le età non ci sono controindicazioni anzi fa benissimo quindi quello tranquillo così come abbiamo bisogno non solo di fare sesso abbiamo bisogno di più che di fare sesso abbiamo bisogno di socialità abbiamo bisogno di godere della presenza degli amici di stare in compagnia di stimolare il cervello abbiamo bisogno di relazione attorno a un bel bicchiere d'acqua attorno a un bel bicchiere d'acqua ma certamente sì ma perché no ma per esempio andando a fare una gita in montagna camminando andando a ballare quanto bello è ballare possiamo ballare che fa bene a tutto fa bene al cuore a coordinare i movimenti quindi non dobbiamo necessariamente intossicare il nostro corpo per stare bene insieme agli altri ci sono tanti comunque io mi ricordo che una volta siamo usciti insieme abbiamo fatto sesso io una volta mi ricordo che siamo usciti insieme tu hai ordinato una tisana alle fragoline di bosco non stavo bene quindi era un periodo difficile ti chiedo insomma chiudo con un'ultima domanda non vale chiedere l'aiutino a Ferraris per questa risposta di fatto chiudi il libro anche tu citando insomma è bello ricordarlo Piero Angela no? è una sua frase in cui diceva la morte è un po' una scocciatura ecco lavorare anche per rendere questa scocciatura meno pesante aiuta la longiluità nel senso ci fa far pace con la vecchiaia con l'anzianità col corpo che cambia allora questo ovviamente è un discorso molto intimo e molto personale ognuno lo vive a modo suo Piero mi disse più volte mi ha detto questa cosa è una gran scocciatura perché una persona curiosa come lui e io condivido completamente il suo punto di vista ci fa male l'idea di andare via e non sapere come va a finire che cosa succederà che quali altre scoperte verranno fatte cosa arriverà un'intelligenza artificiale che domina il mondo oppure no cioè tutte cose sono tutte cose che un po' ti dispiace è come lasciare lo spettacolo prima di sapere chi è il colpevole qualcosa del genere però lui mi disse anche un'altra cosa cioè mi disse però aver vissuto bene cioè sapere di aver fatto il proprio dovere di aver avuto una vita ricca ti aiuta in qualche modo ad accettare questo momento e io questo lo condivido io soprattutto penso che tutti noi abbiamo delle potenzialità nasciamo con delle grandi potenzialità e l'obiettivo della vita secondo me però questa non parla più la scienziata ma parla la persona è riuscire a trasformare questa potenza in atto riuscire cioè a a a tirar fuori il meglio di noi stessi per dare il nostro contributo a questo pianeta a questo mondo Piero sicuramente l'ha fatto io ci sto provando e credo che quindi dal mio punto di vista la morte sì sarà una grande scocciatura ma non sarà una grande tragedia grazie 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 a tutti